Primo giorno a Parigi! Eccomi qua all'aeroporto! Qui è solo il primo giorno, quindi ovviamente mi riposerò un po'. Sembra di stare in un sogno. Adesso un po' di sano. Relax! Ok, mi sono riposata. Pronta per andare a cena! È un outfit semplicissimo, però solo per andare a mangiare. Buongiorno! Sono letteralmente stanchissima. Ieri dopo cena sono andata a dormire, ma mi sono svegliata allo stesso super stancho. Quindi adesso vado a fare colazione. Più tardi vado a fare un giro della città. In pratica non ho preso niente e robe senza senso. Uno yogurt, questo e... Questo è il semi di chia, fanno benissimo, quindi l'ho preso apposta. L'ha vista. È semplicemente sotto lo set, non è niente di che. Scusate, farò una cosa che non a te ti piacerà, ma mi fa detox. Scusate, farò una cosa che non a te ti piacerà, ma mi fa a fare un giro. Dichiarazioni d'amore. chissà se stanno ancora insieme questi, comunque è una cosa strabella, una cosa molto romantica. Io mi ricordo troppo quando avevo studiato la Torre Eiffel e dicevano che era stata fatta per l'Effo, solo che era talmente bella che alla fine l'hanno tenuta per Nova Eiffel. Scusate, scusate, è fatta talmente bene che alla fine l'hanno tenuta fino ad adesso. Ora sono a Champs-Élysées, basicamente è una strada con tanti diversi. Sono super stanca come si può vedere dai miei occhi, dalla mia faccia, quindi sono a cena, c'è una veloce e poi vado a dormire, oppure mi riposo e poi esco, ve lo faccio sapere dopo, anzi vi faccio vedere da mangiare. Questa non è l'idea di cosa sia, ma è... Sono ritornata in stanza e oggi giornata molto chill. Dopo cena ho fatto una camminata qua in giro, non ho ripreso perché è buio, vabbè, ve lo farò vedere domani, tanto vi faccio vedere più o meno la zona dove sto e sono stanca. domani sarò carichissima, domani farò un sacco di cose, domani ho già dei massaggi e devo incontrare le persone, visiterò molto di più la città, quindi per oggi come secondo giorno direi che è abbastanza. Buonanotte, ci vediamo domani. Mi sono appena svegliata, ho semplicemente fatto colazione, adesso sono già pronta per uscire, un po' più fresco del solito, infatti questo è il mio outfit. Probabilmente oggi pioverà e si vede, quindi adesso vado a sistemare una cosa, un negozio e dopo vedo cosa fare. Svegliata Svegliata Tutta la mattina l'ho passata a farmi fare il massaggio alla spa, quindi sono appena arrivata in camera, mi sono cambiata. Il tempo fa schifo. Io vado a farmi una doccia, incontro una persona, poi vediamo. Svegliata 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso sono in un parco, è bellissimo. Vi mostro un po' di giro. Vi mostro un po' di giro. Vi mostro un po' di giro. Grazie a tutti. Vi mostro un po' di giro. Vi mostro un po' di giro. Vi mostro un po' di giro. Siamo andati al posto preferito degli francesi. Vi mostro un po' di giro. Vi mostro un po' di giro. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 il più possibile e mostrarvi la maggior parte di quello che ho fatto, ovviamente alcune cose non le ho riprese perché magari pensavo fossero noiose o non lo so, non me la sentivo di filmare e ovviamente questo è stato un viaggio per lo più rilassante, solitamente faccio due tipi di viaggi, viaggi come questo, anche viaggi molto più avventurieri in cui comunque vado in giro, cos'hanno sulle spalle, li ho già fatti in precedenza e sicuramente ve li mostrerò altri se vi piacerà, se sarete felici di vedere i miei video Allora, ovviamente questo era il mio primo video, quindi non siete troppo critici nei miei confronti, dato che questa era una prova, spero vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti a guardare un po' della città, un po' di quello che ho fatto, ci si vede al prossimo video